Musica La Fanon 26enne entra in un supermercato senza mascherina e inizia volutamente a tossire, arrestato dalla polizia. A Pesaro debutta il nuovo centro vaccinale di mille metri all'interno del grande centro commerciale Ricci, servono nuovi punti per i vaccini, al colma di Fano invece tutto fila liscio senza code. Il Covid colpisce anche il consigliere della Lega, Luca Serfilippi, ho febbre, mal di osse, sono isolato in casa ma il peggio sembra essere passato. Il sito delle poste in tilt per le prenotazioni del vaccino per chi ha tra i 70 e 79 anni, impossibile compilare il modulo. Iniziate le vaccinazioni a domicilio da parte dei medici di base, ma a San Lorenzo in campo però c'è un solo dottore per 3.300 abitanti. Pesaro dice addio a Atos Tombari, per 10 anni dirigente scolastico di Liceo Mangaroni di Pesaro, un grande artista che fondò la ceramica di Urbino. Tra poco in diretta su Fano TV, primo cittadino con il sindaco di Fano, Massimo Seri. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla notizia. La polizia di Fano ha arrestato un nigeriano di 26 anni che all'interno di un supermercato ha iniziato a tossire senza mascherina contro i clienti e i dipendenti del negozio. Per fortuna l'uomo è risultato negativo al Covid-19. Momenti di tensione sabato scorso al supermercato Eurospin di Fano, dove un nigeriano senza mascherina ha iniziato volutamente a tossire contro i clienti e dal personale dipendente. Allertata la polizia di Fano, gli agenti hanno rintracciato il giovane di 26 anni, poco distante al terminal degli autobus della stazione ferroviaria. Lo straniero, che era in evidente stato di alterazione alcolica, ha mostrato sin da subito un comportamento aggressivo, prima in vendo e poi aggredendo i poliziotti con calci e pugni. Gli agenti però sono riusciti a schivare i colpi ed ad immobilizzare il 26enne. Il ragazzo, senza fissa dimora, è stato arrestato per i reati di violenza, minaccia e resistenza pubblico ufficiale, ma anche per false dichiarazioni sulla propria identità. Sottoposto a tampone molecolare per Covid-19, il giovane è risultato negativo al virus e dunque i clienti e i dipendenti del supermercato, timorosi del possibile contagio, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Questa mattina poi, al Tribunale di Pesaro, si è tenuta l'udienza che si è conclusa con la convalida dell'arresto e con la condanna del digiariano a un anno e dieci mesi di reclusione con pena sospesa. Inoltre è stata autorizzata la sua espulsione dal territorio nazionale. Durante il fine settimana, invece, gli agenti del commissariato di Fano, diretti dal dirigente Stefano Seretti, hanno svolto anche numerosi controlli sul rispetto delle norme anti-Covid. La vigilanza nel centro storico e sul lungomare è stata continua. Sono state richieste, infatti, le autocertificazioni, sono stati controllati tre locali e identificate 13 persone, ma non è stata riscontrata nessuna violazione. A Sant'Urso, invece, si è verificato un assembramento e i poliziotti hanno riaffidato due minorenni ai rispettivi genitori. Pressante è stata pure l'opera di sensibilizzazione al rispetto del distanziamento e all'utilizzo delle mascherine di protezione. E adesso la disperazione e la rabbia di un barista di Ancona che si è legato le catene ai polsi, è salito sul tettuccio dell'automobile e ha protestato per protestare contro le istituzioni. Siamo disperati, ha detto, lo Stato è incapace di aiutarci. Noi fatichiamo, chi riesce a fatigare per pagare, volete l'affitto, non per andare in vacanza, non per andare al ristorante a mangiare sushi. Hai capito? Stiamo a tribolà, per questo stiamo a tribolà, non ne faremo più. Fate qualcosa, fate qualcosa, perché stiamo morendo tutti. È salito sul tettuccio dell'auto per sfogare la rabbia e far sentire a tutti il proprio grido di dolore. Massimo Sturani, barista di Ancona, sabato scorso si è posizionato di fronte al suo locale e ha impugnato un cartello con su scritto un anno di sole promesse. Siamo disperati. Tutti i giorni 500 persone che muore. Se pare normale, ma non è normale che dopo un anno non sia riuscito a perlomeno abbassare la cosa. Che c***o c'è sta a fare là su? Niente c'è qualcuno che capisce più da te. C'è il televisore, ogni canale, c'è un virologo suo. Tutti capiscono. Ma a me pare che tutti non capiscono. No, c'è ragione Massi. L'uomo di 66 anni protesta contro il governo per le chiusure imposte e la mancanza di ristori adeguati per far fronte alla grave crisi economica dovuta alla pandemia. Cosa ci mettiamo a fare i delinquenti? Solo quello potremmo fare. Cosa mi metto a fare oggi? Io ho 56 anni che puro. Cosa mi metto a fare? Pusso alla macchia, all'andragheta e dico c'è lavoro per me. Come c***o fu, porca c***a? Allora lo Stato deve intervenire con degli aiuti sufficienti. Massimo Mai ha detto, avrebbe immaginato di ritrovarsi in una situazione come questa. Quali sono le difficoltà e come sta cercando di affrontarle? Siamo arrivati proprio alla frutta, come si suol dire, perché è molto semplice. Prima si incassava 10 euro e c'era di 8 euro di spese, 2 euro rimaneva in tasca. Adesso invece si incassa niente e però le spese ci sono sempre. E quindi ha deciso di intraprendere una battaglia personale, ha ricevuto davvero tanta solidarietà in questi giorni da tutta Italia. Quali sono le priorità? Che cosa spera di ottenere in questo modo? O in sicurezza ci fate aprire oppure ci fate chiudere completamente. Tre mesi, quattro, sei, otto, va bene, io sto a casa. Ma ovviamente mi dovete tenere in piedi l'attività. Quindi dei ristori adeguati per coprire luce, acqua, gas, affitto, dipendenti. Anche perché la mia protesta lì sopra era per andare oltre alle chiacchiere che di solito si fanno. Quindi uno fa le chiacchiere, quelli fanno promesse e lo sappiamo tutti, no? Quali sono le promesse sempre dello Stato? Quindi io ecco, la mia posizione sopra la macchina era per un pochino in più risalto alla situazione. Perché non è semplice, credetemi, montare sopra una macchina e stare lì a fare il deficiente, no? Non è semplice. L'unica paura è che quando uno fa queste cose, poi ci saranno dei controlli memorabili. E allora a quel punto vi chiamo, perché tanto io chiuso per chiuso non mi importa più niente, tanto ormai siamo alla fine, quindi alla fine vado a chiudere per magari una cosa giusta, no? Perché così non me ne va proprio di chiudere, così non voglio chiudere, non voglio chiudere così, ok? La città di Pesaro perde un artista, un insegnante, un uomo di valore che ha trasmesso con dedizione la sua arte. È il cordoglio del sindaco Matteo Ricci e del vice sindaco Daniele Vimini per la scomparsa di Atos Tombari, per dieci anni dirigente scolastico di liceo Mengarone di Pesaro. Artista capace, appassionato e sempre disponibile a contribuire alla vita culturale della provincia. Lo ha fatto nel 50, quando ha fondato la Manifattura Ceramica di Urbino. Lo ha fatto poi come preside del liceo artistico. Esperto di terre e di smalti, Tombari ha eseguito opere per enti pubblici e privati. Tra queste una maschera affoggiata a mano, donata nel 56, ai musei civici di Pesaro, dove è ancora custodita. E adesso cambiamo argomento, parliamo di aggiornamento dei dati. I dati sono quelli che riguardano la pandemia nella regione Marche. Sono 13 purtroppo i decessi che si sono verificati nella nostra regione nelle ultime 24 ore. Tra le vittime ci sono anche 5 persone residenti nella provincia di Pesaro Urbino, a Patriano, Mondolfo, Pesaro, Carpegna e Cartoceto. Inoltre, come ogni lunedì, si registra un calo dei tamponi processati e di conseguenza anche dei positivi, ma il rapporto con i test sale al 31,3%. In totale sono stati rilevati 232 positivi, di cui più di un terzo nella provincia di Ancona. I ricoveri negli ospedali sono in lieve aumento. I pazienti in terapia intensiva salgono a 151, più 4 rispetto a ieri, mentre quelli in semi-intensiva salgono a 219, più 2 rispetto all'ultima giornata. Il virus ha colpito anche il consigliere regionale della Lega, Luca Serfilippi. Risultato positivo al tampone molecolare. Ho 38 di febbre e dolore alle ossa, ci ha raccontato il consigliere. Sono isolato in casa con la mia compagna e probabilmente il peggio è passato. Ancora non mi spiego dove l'abbia contratto, ma ormai conta poco. Con l'invito che faccio, conclude Serfilippi, è di prestare massima attenzione nei vostri comportamenti. E adesso torniamo invece a Pesaro, perché oggi è partita la vaccinazione all'interno del Rossini Center. La nuova sede di 1.200 metri quadrati va a risolvere il problema degli assembramenti che si verificavano al centro Monaldi. Angelica Panzieri. Oggi la campagna vaccinale parte da qui, siamo in via Gagarin all'ex Ristò ed è qui che vengono effettuate le vaccinazioni agli over 80. Era il giorno dei richiami per gli over 80, cambio di sede avvenuto per la città di Pesaro che d'ora in avanti vedrà la popolazione vaccinarsi all'ex Ristò. Il ristorante è chiuso da tempo all'interno dell'Iperconad. Un locale di 1.200 metri quadrati dove nel primo giorno di somministrazioni tutto è filato liscio, regolati gli ingressi in entrata e in uscita, gli operatori sanitari hanno iniziato alle 8.30, misurazione della temperatura all'ingresso e poi via con la seconda dose. All'interno 10 postazioni vaccinali che permetteranno di accelerare i ritmi. Da ora in avanti saranno effettuate circa 800 somministrazioni giornaliere che arriveranno a 1.500 quando i vaccini saranno a disposizione senza limiti. Soddisfatti gli ultraottantenni che in questa prima mattinata hanno sottolineato l'efficienza non solo della macchina organizzativa ma anche dello stesso locale, molto più capiente rispetto al centro sociale Monaldi. È andata bene, anche la prima che ho fatto mi è andata molto bene. Se andassi ancora di oggi è bene, sarei contenta. Molto molto comodo e molto bene. Benissimo, è andato tutto bene e svelto, veloce, veloce. Sono stati bravi? Sì, sì. Ha trovato questo centro funzionale? Molto, 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 molto di più questo. Eccezionale come velocità, correttezza e cortesia. Molto svelto oggi, molto svelto. L'altra volta abbiamo aspettato dalle 6 alle 9, siamo andati a casa, della sera. Che fanno interrotto? Invece qua è andata... Eh, adesso io ho fatto subito. No, guardi, sono bravi, educati e molto certi. Rispetto al sito precedente del Monaldi sicuramente da oggi riusciamo ad avere un'organizzazione decisamente migliore e a dare anche agli utenti una situazione più confortevole. Siamo contenti di poter dare una mano con i nostri volontari in supporto a tutto il personale sanitario a livello logistico e organizzativo. E lì era presente anche il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che ha ribadito l'importanza del vaccino ma anche quello di fare i tamponi nelle scuole. A fine mattinata anche il sindaco Matteo Ricci ha fatto tappa all'ex Ristò e si è detto soddisfatto per l'efficienza della macchina organizzativa e del locale decisamente più ampio rispetto al centro sociale Monaldi. Siamo molto soddisfatti, gli operatori ci hanno raccontato di un sistema che funziona molto meglio e anche di una soddisfazione da parte degli utenti questa mattina nonostante che sia il primo giorno. Voglio ringraziare davvero Conad e il Rossini Center perché hanno dato un'opportunità alla città importante e del resto sono settimane e settimane che diciamo che servono più posti, posti più grandi. Questo sicuramente oggi è un posto adeguato sia per qualsiasi tipo di clima che c'è, caldo, freddo, è sempre coperto, è facile da trovare, c'è il parcheggio e gli spazi sono davvero molto grandi e il meccanismo organizzativo funziona molto bene. È chiaro che rimane il problema che gli spazi sono pochi perché se vogliamo moltiplicare le vaccinazioni nei prossimi giorni così come il paese e anche la nostra regione necessita abbiamo bisogno di moltiplicare gli spazi di vaccinazione. Come comuni della Valle del Foglia abbiamo chiesto quattro punti, due a Pesaro, una a Valle Foglia e una a Gradara per svolgere al meglio la campagna di vaccinazione. Oggi ne abbiamo uno organizzato molto bene, speriamo che a questo se ne aggiungano presto gli altri richiesti. Un'occasione per il primo cittadino per ribadire anche l'importanza dell'effettuare i tamponi nelle scuole. Intanto Draghi ha detto che le scuole riapriranno anche nelle zone rosse fino alla prima media, poi il resto è delegato alle regioni, quindi ogni regione deve decidere che fare. Io spero che le marche siano tra le regioni, se torneremo a Arancioni dopo Pasqua, cose che ci auguriamo tutti, che possano riaprire e riaprano in sicurezza. Da tempo chiediamo alla regione di fare lo screening degli studenti, l'abbiamo chiesto anche al Premier Draghi perché se si crede davvero, come Draghi ha detto, nella scuola in presenza bisogna fare qualcosa perché i ragazzi saranno fuori dalla campagna di vaccinazione, fino a 16 anni non verranno vaccinati e i 17 anni, i 18 anni, i 19 anni verranno vaccinati presumibilmente ad agosto o settembre se andrà bene. E quindi è chiaro che saranno vaccinati dopo la fine dell'anno scolastico. Quindi se noi vogliamo aprile, maggio, giugno far finire la scuola il più possibile in maniera ordinata abbiamo bisogno di controllare gli studenti, ovunque, nelle marche e in giro per l'Italia. A Pesaro, se la regione non la farà e lo Stato non lo farà, comunque lo faremo noi, alle scuole medie e alle scuole superiori. Quindi appena sapremo la data ufficiale dell'avvio delle scuole medie e delle scuole superiori, con Mila della Dora ci stiamo organizzando per fare i tamponi veloci a tutti gli studenti. A Fano, invece, le vaccinazioni proseguono senza intoppi, senza ne file, ne assembramenti al Codma di Rosciano. Simona Zonghetti L'appuntamento è alle 7.30 per i sanitari e per i volontari che si preparano ad accogliere i pazienti. Poco dopo, intorno alle 8, arrivano i primi anziani che, soli o accompagnati da un familiare, si mettono in fila a bordo dell'auto fino a raggiungere il piazzale antistante all'ingresso. Al punto vaccinale del Codma di Rosciano a Fano, attivo dallo scorso febbraio, si lavora a pieno ritmo, ormai 7 giorni su 7, e il servizio ai cittadini è garantito anche fino alle ore 20. Io vivo a Senigallia, lavoro per Aria Vasta 1 e ho dato la mia disponibilità anche per la sede vaccinale di Fano, perché è la più vicina a me. Quindi fa dei doppi turni? Sì, io una volta finito qui il mio turno, alle 13, parto per andare su a Mondavio, lavoro in RSA, e dalle 14 alle 20, lavoro anche su a Mondavio oggi pomeriggio. Un grande sforzo? È un bel impegno che io faccio molto volentieri, perché ecco, alla comunità si deve questo servizio, insomma, lo faccio con piacere. La professionalità e la gentilezza del personale non passano inosservate. Inoltre, i grandi spazi, sia interni che esterni alla struttura, consentono sempre di evitare assembramenti. Al posto delle polemiche, qua arrivano solo complimenti per l'organizzazione. Signora, come si sente? Tutto bene? Sono stati gentili oggi? Ma anche la gentilezza ce n'è per vendere. Quindi si è trovata bene con i sanitari? Sì, benissimo. Benissimo. Che cosa ha fatto? La prima o la seconda somministrazione? La prima. Ha fatto un po' di filo oppure è riuscito a entrare subito? Subito. Ci avevamo l'appuntamento a mezzogiorno. Quindi sono stati puntuali? Sì, però ci ha fatto entrare prima. Si sente bene? Tutto a posto? Adesso sì, grazie a Dio. È contenta adesso, più tranquilla, che ha fatto il vaccino? Sì. Anche la televisione c'è, meglio di qui dove vuoi andare? Insomma, attende il suo momento, i 15 minuti classici per verificare? A mezzogiorno, un quarto d'ora, devo riposare un po', per ora va tutto bene. E il percorso che hanno organizzato qui al Codman come lo ha trovato dal momento del suo arrivo fino all'uscita? Ma benissimo, bravi, sono cordiali, poi non c'è neanche confusione, è una cosa rapida. Quindi nessun assembramento e ha fatto subito? No, dieci minuti ho aspettato. Mi dicevano c'è da aspettare le ore, invece non so gli altri giorni, ma oggi va tutto bene. Molto bene, guarda, soddisfatta. Come si è trovata qua con i medici, gli infermieri e tutti i volontari? Molto gentili, molto gentili veramente, guarda. Li auguro tanta salute e tante belle cose, a voi, a tutti. Anche lei si è trovato bene? Ottimo, ottimo. Meglio di così, non c'è altro. È un bel servizio che, anche se non è un servizio che nasce come protezione civile, ma diciamo che si aspetta dalla protezione civile una risposta, è tutta la protezione civile a livello regionale, perché qui sul punto dei vaccini non la gestisce solo il Cibicliematei, ma sono tutti i gruppi comunali e le associazioni di protezione civile del sistema regionale che a turni, 4 al giorno, qualche volta anche 5, si mettono a disposizione per prestare servizio, per aiutare a compilare i moduli, soprattutto perché qui c'è la distribuzione della frutta, ci sono i tamponi e quindi la persona che arriva già dall'entrata al cancello del Codma viene indirizzata o ai tamponi o al ritiro della frutta o alle persone normalmente che vanno a fare spesa all'ortus o perché no alla frutta, quindi diamo un servizio dall'ingresso, in pratica del Codma fino alla fine e questo sui vaccini sono tutte le associazioni di protezione civile. Rientrate anche nella categoria dei riservizi, ci sono dei volontari che hanno ricevuto la dose? Sì, per scelta, in questo punto, non so Urbino e Pesaro come si comportano, ma con il direttore per scelta c'è una lista di volontari di protezione civile che sono quei volontari che tuttora tramite i servizi sociali vanno a fare spesa, hanno contatto con le persone con il Covid e quindi visto che prima eravamo fra la categoria da vaccinare tutti, dopo qualche giorno non è stato più così, quindi alla sera, due, tre, cinque o quello che avanza riusciamo a vaccinare i volontari che hanno contatti con le persone che hanno il Covid. E se al Codma di Rosciano, a Fano, è andato tutto bene, sta filando liscio praticamente dall'inizio purtroppo il debutto per le prenotazioni del vaccino per le persone tra i 70 e i 79 anni il debutto non è stato invece felice, perché? Perché diversi telespettatori ci hanno segnalato alcune difficoltà nella prenotazione appunto dei vaccini. Oggi è partita quella per le persone che rientrano nella fascia d'età 70-79 anni, il disguido che non permetteva in sostanza di prenotare sarebbe stato provocato dal mancato caricamento delle liste con i dati degli utenti, ma il direttore dell'area vasta 1 ci ha fatto sapere che gli operatori sono al lavoro per risolvere il problema. Vi ricordiamo che la prenotazione va fatta sul sito di Poste Italiane tramite i portalettere o i post amattattivi sul territorio oppure contattando il numero verde 800-00-9966. Per quella online servono il numero della tessera sanitaria, il codice fiscale e un numero di cellulare al quale verrà notificata la conferma. Al paziente verrà subito comunicato il giorno, la sede e l'orario in cui si deve presentare il punto di vaccinazione. Dalla regione inoltre fanno sapere che a partire dai prossimi giorni saranno vaccinati anche i medici liberi professionisti. E sono partite le vaccinazioni a domicilio anche da parte dei medici di base. A San Lorenzo in campo però, siamo sempre in provincia di Pesor Urbino, c'è un solo dottore per 3.300 abitanti. A lanciare l'allarme è il sindaco del paese Dell'Onti che ha scritto una lettera all'Asur e alla regione. La situazione è drammatica e sono preoccupato. Il sindaco di San Lorenzo in campo, Davide Dell'Onti, lancia l'allarme per la mancanza di medici di medicina generale. Per cercare di risolvere al più presto il problema, il primo cittadino ha preso carta e penna e ha inviato una lettera ai direttori dell'Asur Marche e dell'Area Vassa 1 e all'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini. Su 3.300 abitanti attualmente in servizio stabile abbiamo soltanto un medico perché uno è andato in pensione a settembre dello scorso anno e un altro purtroppo per motivi personali non può in questo momento proseguire la propria attività ed è continuamente soggetto a sostituzioni, oltretutto non in maniera stabile. Quindi l'appello che noi abbiamo fatto è quello ad Asur e per conoscenza alla regione Marche, all'assessore Filippo Saltamartini, alla sanità, è di stabilizzare questa situazione. Ha già avuto delle prime risposte dai vertici della sanità regionale? Sì, fortunatamente alcune risposte già ci sono state con un'ulteriore sostituzione del medico che non può proseguire la propria attività dall'1 al 18 con un medico, più dal 19 in poi con un'altra dottoressa. Chiaramente sono sostituzioni sempre a tempo, quindi non in maniera stabile e soprattutto dobbiamo assolutamente tornare a tre medici nel più breve tempo possibile. Ha lanciato un appello anche a tutti i medici di famiglia disponibili perché appunto ci sono questi posti vacanti. Esatto, l'Asur ha anche messo un avviso pubblico per due posti vacanti su San Lorenzo in campo e l'auspicio e l'appello che faccio anche tramite voi è quello che i medici di famiglia possono aderire a questo avviso e prendere servizio in maniera stabile e permanente qui a San Lorenzo in campo. Come ho detto anche nella stampa, siamo assolutamente disposti anche a valutare delle soluzioni per un ambulatorio comunale o comunque dare una mano, un supporto importante perché soprattutto in un momento come questo di pandemia dove il medico di famiglia è un punto fondamentale di tutta la catena di salute e sanità per le persone, oltretutto anche per il piano vaccinale diventa fondamentale, il medico di famiglia non possiamo permetterci una situazione del genere in un comune come il nostro. E quindi ha detto che servono certezze e soprattutto risposte eccelleri? Assolutamente sì, c'è bisogno di velocità, c'è bisogno di concretezza e c'è bisogno di persone, medici che vengano nel nostro territorio. Non possiamo rimanere con un medico che oltretutto sta facendo veramente di tutto e di più per dare assistenza all'intera comunità ma non possiamo lasciarlo solo, oltretutto andrà in pensione anche lui al dottor Di Francesco, andrà in pensione anche lui a ottobre. Quindi poi iniziamo questa battaglia e questa sollecitazione, questo appello in maniera preventiva per non trovarci veramente a piedi diciamo in autunno. Da domani anche nella provincia di Pesaro e Urbino verrà attivato il numero unico di emergenze europee, il 112. Chiamando da rete fissa o da mobile si entrerà in contatto con la centrale unica di risposta Marche Umbria che si trova ad Ancona. La centrale gestisce le richieste di emergenza delle due regioni, smistandole a seconda della situazione ai carabinieri, alla polizia, alla capitaneria di Porto, ai vigili del fuoco e al soccorso sanitario. Tutti questi numeri resteranno comunque attivi. Subito dopo di noi le previsioni del tempo, naturalmente poi la pubblicità e in diretta primo cittadino l'ospite di questa sera è il sindaco di Fano Massimo Seri. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, l'informazione torna in diretta domani mattina alle 7 puntuali con il commento alla stampa. Arrivederci. Grazie. Grazie.